Dopo il referendum popolare, il Consiglio regionale nella seduta del 27 giugno ha definitivamente approvato la legge che cambia il nome di Popoli in Popoli Terme. Di progetti ce ne sono tanti per la città dell'acqua, in particolare un centro turistico termale, un'agenzia per la promozione del turismo sostenibile, termi aperte tutto l'anno, riabilitazione termale e un'attenzione sull'Abruzzo Verde e sull'enogastronomia. Si è ne discusso in un incontro con il sindaco Dino Santoro e il presidente della regione Abruzzo, Marco Marsiglio. Quindi partiamo con questo Popoli Terme, a oggi solo parlandone si stanno avendo risultati eccezionali perché oggi è complicato a Popoli trovare un posto in un B&B o in un albergo o affittare, anche affittare una casa, è diventato complicatissimo perché c'è una richiesta che è molto superiore rispetto all'offerta che possiamo dare e sulla quale stiamo lavorando. Quindi c'è stato un incremento di richieste? Assolutamente sì. Soddisfatto il presidente della regione Abruzzo, Marco Marsiglio, che già pensa ad altri progetti per il territorio. Gli investimenti qui su Popoli sono indirizzati alla realizzazione di un complesso termale che superi i limiti dell'attuale conformazione. Lo stabilimento termale di Popoli ha avuto nei decenni pochi investimenti, è scarso modernamento tecnologico, è un impianto anche questo rilevato da un fallimento sostanzialmente, dallo stesso fallimento delle Terme di Caramanico. C'è un'impresa che l'ha rilevato, ha già riattivato le attività che però sono attività minimali, nel senso che fino ad oggi sono durate anche nelle stagioni migliori pochi mesi all'anno, mentre tra gli obiettivi di questo rilancio c'è l'apertura tutto l'anno. Questo è stato già ottenuto grazie appunto al riconoscimento che la regione ha fatto di un progetto di termalismo aperto 365 giorni l'anno, intorno al quale deve essere realizzato un albergo di livello con un numero di stanze sufficienti, un complesso di iniziative turistiche collegate, compreso quello che si lega alla ferrovia e alla presenza qui vicino di parchi nazionali. Una ventina e milioni di euro per vari progetti ha concluso il Presidente Marsiglio.